Antonello, ho visto che c'è Antonello, ben arrivato, quindi ci siamo tutti, prego Gabriele. Vedete lo schermo? Vediamo. Perfetto, ok, presento un caso clinico di un ragazzo di 45 anni con moltiplici fattori di rischio, come unica comorbidità un'attia da replusso gastroesofageo, la cui storia cardiologica inizia circa due anni fa, quando si reca in visita per dei dolori toracici per alti carichi di lavoro. È prescritto un test a sforzo che risulta positivo per ischemia, tuttavia non vengono slatentizzati sintomi anginosi durante la prova. Esegue anche una scintigrappia miocardica che mostra una lieve ischemia in sede inferolaterale. Il cardiologo che l'ha seguito propone una terapia con aspirina e statina, senza suggerire esami invasivi. Nei due anni successivi il paziente ha due nuovi episodi di dolore toracico prolungato, per cui deve accedere in pronto soccorso. Durante questi entrambi gli accessi al tracciato d'ingresso si osserva un sottolivellamento in sede inferolaterale che regredisce spontaneamente con terapia medica, una curva troponina e in entrambi i casi negativo, un ecocardiogramma normale e a posteriori viene programmata nuovamente una scintigrafia miocardica che risulta questa volta negativa. Quindi lo vedi in ambulatorio e mi pongo un po' il dubbio su cosa fare. Se crede a cardiopatia ischemica e quindi sceglie un approccio conservativo potenziando la terapia medica, in cui c'è ancora un po' di spazio, oppure se proporgli direttamente un approccio invasivo, oppure se credere più a una patologia gastroenterica. Ovviamente essendo in un webinar di patologia del microcircolo scegliamo l'approccio invasivo. Questo è il suo tracciato all'ingresso in reparto. Adesso dovremmo partire i video della coronarografia. Ecco qua, coronarie picardiche completamente indenni, non si riesce a identificare né placche coronariche né tratti intramiocardici. Quindi a questo punto il paziente che ha sintomi chiari, certi con anche modificazioni elettrocardiografiche viene il dubbio su un po' come gestirlo. Solo potenziare la terapia medica o a questo punto andare a cercare una patologia, eventuale microcircolo o vasospasmo. In eguida, ci dicono, in questi pazienti può essere definito un paziente in oca e anche a noca. Dopo una coronarografia, come mostra coronari indenni, proseguire appunto con gli step per lo studio del microcircolo e della vasoreattività. Così abbiamo fatto. Questo slide è per dire appunto che dopo aver escluso una patologia ostruttiva, lo studio del microcircolo e del vasospasmo, oltre a identificare una di queste due cause per l'angina o un meccanismo di overlap, può anche permettere di escludere completamente, in caso fossero negativi, un dolore cardiaco e quindi riferirlo eventualmente ad altri specialisti. Gli indici che andiamo a valutare sono appunto il DMR e la CFR, soppia il DMR per il microindice di resistenza del microcircolo, mentre la CFR è il flusso di riserva coronarica. Quindi ingaggiamo bene il nostro JL3,5, posizionando la nostra guida per effettuare la termodiluzione nel terzo distale del ramo interventricolare anteriore. E questi sono i risultati dopo i boli di soluzione fisiologica, sia a riposo che dopo induzione dell'ischemia e induzione della vasodilatazione con adenosina endovenosa, un po' in continuo, vediamo la CFR e un DMR nella norma. Quindi 6 a 1 di CFR e 14 di DMR. A questo punto prestiamo a eseguire l'acetilcolina, primo bolo da 20 microgrammi, sulla sinistra vedete l'angiografia basale e sulla destra post bolo di acetilcolina. Il paziente non ha dolore toracico e non abbiamo vasospasmo. Passiamo quindi a una dose incrementale. 50 microgrammi e il paziente inizia a lamentare il dolore toracico è esattamente identico a quello che l'ha portato in pronto soccorso. Vediamo l'angiografia che è sovrapponibile allo studio pre-acetilcolina, quindi non abbiamo uno spasmo epicardico. Però al monitoraggio a 12 derivazioni, che nel frattempo avevamo montato ovviamente prima di fare il test ad acetilcolina, vediamo le derivazioni laterali, di U1, AVL e V6 soprattutto, che ci verificano modificazioni significative del tratto STT con sottolivellamento in versione dell'onde T. Dopo 3 mg di nitro intracoronarico il dolore passa e si normalizza il tracciato. Pertanto a questo punto sentiamo il diritto di identificare il disturbo come dovuto a uno spasmo microvascolare. A dimissione viene suggerito di smettere di fumare, impostata a terapia con dilzene, 60 mg per 3, e adesso a 5 mesi al follow-up il paziente non ha ancora avuto recidive di dolore toracico. Grazie. Perfetto, grazie mille, grazie mille Gabriele per il caso che introduce perfettamente la sessione, quindi è con piacere che introduco Alberto Polimeni da Cosenza, che illustrerà il workup diagnostico della malattia microvascolare, mentre carica le diapositive ci tengo fin da subito a fare solo una precisazione, che quello che più ci sforziamo di parlare di Anoka meglio è, perché ricordiamoci che qui siamo nel setting del cronico, quindi il nostro target è l'angina, e quindi dobbiamo cercare un po' di focalizzarci più su pazienti che hanno la sintomatologia, come quello che ha fatto vedere Gabriele, più che in generale sulla dimostrazione di un'ischemia se non c'è un correlato sintomatologico importante associato. Prego Alberto, vai pure. Non ti sentiamo Alberto, vediamo le diapositiva, ma non ti sentiamo. Ok, mi vedete e mi sentite adesso immagino. Perfetto. Allora, prima di iniziare permettetemi di ringraziare la SIC per aver accettato di organizzare questo bel webinar. Carmine, come direttore del gruppo di studio, e tutti voi per essere qui oggi. Vi parlerò del workup diagnostico della malattia microvascolare in sala di emodinamica. Inizio da questa diapositiva per dire che per molti anni abbiamo considerato il circolo coronarico limitatamente alla sua componente epicardica, considerando la presenza di angina come espressione di un'astenosi limitante il flusso coronarico. Tuttavia, però, il circolo epicardico rappresenta solo il 5% del circolo coronarico e la restante parte, ossia il 95%, è composta dal microcircolo coronario che svolge pertanto un ruolo primario. Quest'altra diapositiva, invece, ve la mostro per farvi notare come la malattia coronarica ostruttiva sia presente in solo il 41% dei pazienti elettivi che effettuano una coronarografia, come vedete in questo grafico attorta, mentre il restante 60% o non ha proprio una malattia coronarica o una malattia coronarica con stenosi veramente meno del 20%. È ancora più importante che l'angina post-angioplastica, anche in presenza di malattia coronarica ostruttiva trattata efficacemente con uno stente, permane in circa il 20-30% di questi pazienti. E questo probabilmente a causa di una disfunzione del microcircolo che può essere o isolata o anche associata appunto alla malattia coronarica ostruttiva. Quindi molto spesso, cosa di cui molto spesso non abbiamo contezza, queste due patologie si overlappano, si sovrappongono. Ma la diagnosi di malattia microvascolare, come viene fatta attualmente, questi sono i criteri diagnostici mostrati e pubblicati da Cunadian che sostanzialmente considerano la presenza di ischemia, sintomi tipici di ischemia, l'assenza di malattia coronarica ostruttiva definita con stenosi inferiore al 50% con FFR negativa o evidenza di malattia di test di ischemia positivi e come ultimo parametro appunto alterate resistenze del microcircolo definite come per esempio una CFR patologica con un cut-off di 2 valutato invasivamente o non invasivamente, spasmo microvascolare come quello che abbiamo appena visto nel caso clinico appena presentato oppure valori di resistenza del microcircolo superiori a 25. Un attimo che... ok. Ma cosa dicono le linee guida nelle sindrome coronariche croniche? Comunque con una classe 2A a livello di evidenza B dicono che una valutazione invasiva della CFR o dell'IOMR dovrebbe essere considerata nei pazienti con sintomi persistenti coronari angiograficamente normale o che hanno comunque stenosi moderate con valori di FFR o indici non iperemici negativi. In più aggiunge che il test all'acetilcolina con monitoraggio ECG che ricordiamo è preferibile fare sempre con le 12 derivazioni può essere considerato durante l'angiografia se le coronarie sono angiograficamente normali che vanno stenosi moderate all'FFR o IFR per valutare appunto il vasospasmo microvascolare. Quali sono gli indici e cosa vanno a valutare gli indici che noi testiamo in sala di emodinamica? Sicuramente vanno a valutare sia il circolo epicardico attraverso appunto gli indici non iperemici indici come l'ARFR o l'IFR tra i più comuni o indici peremici come l'FFR che è il più diciamo studiato nel corso degli anni. Per quanto riguarda il microcircolo l'indice più specifico è sicuramente l'IMR l'indice delle resistenze microvascolari mentre l'ACFR sostanzialmente valuta entrambi quindi senza però poter discernere quanto pesi l'uno rispetto all'altro per quanto riguarda la sua nel caso di alterazione dei valori di SIEFAR. Ma come possiamo in sala di emodinamica valutare tutti questi parametri? Da qualche tempo è disponibile questo software il Coroflow Coroventis che è una piattaforma che permette appunto di valutare sia questi indici per la valutazione del circolo epicardico come l'AFFR e l'ARFR sia gli indici del microcircolo come l'IMR e la SIEFAR. Qui sulla destra vedete la classica schermata. Ma come è possibile calcolare questi indici con una guida di pressione? Abbiamo una guida di pressione denominata Pressure Wire che presenta dei termistori prossimalmente e distalmente la stessa guida e questo permette attraverso un principio di termodilizione al cardiologo interventista di valutare appunto il tempo di transito il mean transit time iniettando delle soluzioni di salina in condizioni basali ed in condizioni di iperemia. Come viene calcolata la SIEFAR? La SIEFAR, lo sappiamo tutti, non è altro che il rapporto tra il flusso iperemico e il flusso basale. Il flusso possiamo considerarlo come il reciproco del tempo medio di transito e pertanto la SIEFAR non è altro che il rapporto tra il reciproco del tempo di transito in condizioni di iperemia diviso il reciproco del tempo di transito in condizioni basali e questo sostanzialmente semplificando con una semplice operazione matematica non è altro che il rapporto tra il mean transit time at rest ossia il riposo e il mean transit time in condizioni di iperemia. Per quanto invece riguarda l'indice delle resistenze microvascolari possiamo definirli in questo modo. la formula dalla quale deriva è sostanzialmente che la resistenza non è altro che il delta della pressione diviso il flusso. Il delta della pressione non è altro che la pressione distale meno la pressione venosa centrale e l'IMR non è altro che il rapporto tra il delta della pressione quindi Vd meno Pb diviso il reciproco del tempo del flusso quindi sostanzialmente del tempo di transito medio. Essendo la pressione venosa venosa è negligibile si può semplificare dicendo che l'IMR non è altro che la pressione distale per il tempo di transito medio in condizioni di iperemia massimale. Il cutoff l'abbiamo visto prima è un cutoff normale di minore o uguale 25. Quindi che cosa andiamo a valutare attraverso la guida di pressione attraverso la termodurizione? Sicuramente gli indici epicardici che restano comunque fondamentali perché molto spesso nonostante non ci siano delle stenosi apparentemente critiche e significative molto spesso nella malattia diffusa abbiamo dei valori sorprendenti quindi a volte può esserci anche una malattia epicardica. Mentre riusciamo a valutare sicuramente nel caso di andremo a valutare in caso di malattia epicardica non significativa sicuramente andremo a fare il secondo step ossia quello della valutazione degli indici di malattia microvascolare come l'AMR, la CFR e tutti gli altri che sono a disposizione senza dimenticare che il test all'acetilcolina può essere molto utile appunto per andare a sletentizzare o uno spasmo epicardico come ha fatto vedere il collega nel caso clinico anche uno spasmo del microcircolo. in caso di malattia coronarica ostruttiva è sempre buona norma andare comunque a valutare gli stessi indici post-PCI per valutare anche l'efficacia del trattamento. È molto importante anche avere chiara una specifica terminologia una specifica nomenclatura di quello che poi andiamo a vedere cioè una volta che ottenuti tutti questi valori attraverso il sistema del corofuo coroventis è importante anche capire e fare utilizzare una terminologia adeguata per appunto approfondire approfondire certi aspetti. Si tratta di una malattia coronarica epicardica ostruttiva quando abbiamo appunto gli indici non iperemici inferiori o uguali a 0,89 o l'FFR minore uguale a 0,80 o la contrast FF minore uguale a 0,83. Parliamo di malattia microvascolare strutturale o funzionale e nelle prossime diapositive le definirò meglio. Parliamo di angina vasospastica in cui i pazienti in cui ritroviamo durante il test con l'acetilcolina l'angina più modifiche nel tratto ST all'elettrocardiogramma a 12 derivazioni è uno spasmo epicardico maggiore del 90%. Parliamo di angina mista quando c'è una combinazione da tutte e tre queste componenti o possiamo finalmente escludere il dolore toracico di origine cardiaca quando tutti questi esami risultano negativi. Parliamo della disfunzione microvascolare denominata strutturale. Non è altro che il risultato successivo a un rimodellamento avverso arteriolare che include la rerefazione dei capillari e la fibrosi perivascolare. Questo porta a un aumentato resistenza del microcircolo e a un insufficiente aumento del flusso coronarico in risposta alla domanda miocardica di ossigeno. Da un punto di vista degli indici parliamo appunto di malattia strutturale quando in presenza di alterata SIFR o SIA minore di 2 e con un'IMR alterata allo stesso modo maggiore di 25. Quindi entrambi gli indici devono essere alterati. in questo caso parliamo di malattia microvascolare strutturale. Parliamo invece di disfunzione microvascolare funzionale quando abbiamo sì una alterazione della SIFR ma un'IMR preservata. Questo suggerisce sostanzialmente l'incapacità da parte del microcircolo coronario di aumentare il flusso adeguatamente attraverso la vasodilatazione in risposta all'aumento della domanda di ossigeno nonostante ci siano resistenze microvascolari basse. Un'altra entità che è importante conoscere perché molto spesso chi fa Coroventis sa che capita abbastanza frequentemente sono quei casi in cui abbiamo sì un aumento delle resistenze del microcircolo quindi con valori di NMR superiore a 25 ma con valori di SIFR sostanzialmente normali o vicini al cutoff questa condizione probabilmente riflette un danno un danno iniziale che attualmente è compensato perché come si può notare la SIFR i valori di SIFR sono comunque ancora preservati e questa condizione è molto importante identificarla a mio giudizio perché può permettere di iniziare un'adeguata terapia prima che i danni al microcircolo siano danni consistenti e quindi una terapia subito mirata può sicuramente identificare i pazienti che poi sono più a rischio di sviluppare una malattia del microcircolo di tipo strutturale infine a completamento di quello che ha detto correttamente il collega lo spasmo microvascolare è definito come la presenza di dolore toracico tipico modifiche ECG ma senza evidenza di uno spasmo epicardico durante l'angiografia un rallentamento del mezzo di contrasto è diciamo l'aspetto tipico che si va a vedere in questa condizione ed è caratterizzato da un aumento del mean transit time e se lasciamo la pressure wire in posizione ed effettuiamo la termodiluzione a boli si possiamo notare in questi casi che c'è un aumento delle resistenze microvascolari vi espongo veramente brevemente questo caso clinico di una donna di 55 anni che presenta i principali fattori di rischio cardiovascolari un'angina carse canadian 2 normale funzione effetto appunto per il dolore torace un test di ischemia al treadmill che mostra un sottosivellamento del tratto ST nelle derivazioni laterali quindi positivo per ischemia fa una terapia standard per i suoi fattori di rischio alla coronarografia notiamo sostanzialmente arterie coronarie esenti da stenosi anche la coronaria destra però la paziente presenta dolore toracico quindi che cosa abbiamo fatto abbiamo adottato un approccio full fisiologi sia quell'approccio che permette la valutazione di tutti questi indici di fisiologia coronarica per appunto definire bene il fenotipo di questa paziente questi sono i cutoff che abbiamo già discusso e all'analisi invasiva con la guida di pressione abbiamo notato appunto valori di RFR totalmente negativi di FFR 0,93 quindi anche questi negativi valori di IMR di 45 quindi alterati valori di SFR però conservati e questo è riportato appunto la flow chart che abbiamo e tutti i valori che abbiamo ottenuto quindi che cosa possiamo dire anche sulla base di quello che abbiamo che vi ho mostrato fino ad ora che questa paziente aveva una disfunzione microvascolare iniziale senza una malattia epicardica significativa abbiamo adottato misure terapeutiche e di cambiamento dello stile di vita pertanto abbiamo introdotto il nebibololo come beta bloccante migliorato la terapia con l'acinibitore molto importante anche tenere sotto controllo i valori di colesterolo LDL quindi abbiamo aumentato anche abbiamo introdotto una statina come la torvastatina e quindi possiamo dire che il valore addizionale che ha dato questo tipo di approccio è stato sicuramente quello di fare una diagnosi spesso questi pazienti che hanno angina fanno molte coronarografie perché ogni volta continuano avendo le toraci ogni volta troveranno un medico che gli prescriverà questo esame e quindi già il fatto di poter fare una diagnosi definitiva permette al paziente di non sottoporsi a continui test da sforzo e a continui indagini invasive migliorato la terapia perché siamo riusciti avendo visto una una disfunzione microvascolare strutturale iniziale comunque compensata abbiamo comunque preferito ottimizzare la terapia per bloccare questo processo e come ho detto prima evitare numerose angiografie nel follow up e con questo vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie Alberto chiamerei la dottoressa Marta Belmonte per la prossima relazione approccio step by step per lo studio del microcircolo coronarico nel CATLAB standard operating procedure mi raccomando i tempi avete 10 minuti 1 o 2 minuti sono accettabili altri minuti adesso andiamo a discapito della discussione per favore grazie Marta grazie mille per l'introduzione ringrazio anch'io la SIC il gruppo di studio del microcircolo e il prof Pizzi e Campo per questo gentile invito vi parlerò dei protocolli da adottare nel laboratorio di emodinamica per giungere ad una diagnosi di malattia microvascolare i tempi sono mai maturi per poter applicare questi protocolli nella pratica clinica quotidiana e già le linee guida ESC del 2019 davano delle indicazioni per la valutazione dei pazienti con sospetta angina microvascolare nel 2020 vengono introdotti gli endotipi di Anoka fino a poi ad arrivare a questa state of the art review pubblicata su Jack quest'anno per l'algoritmo diagnostico nei pazienti Anoka mi anticipo che le linee guida del 2024 sulle sindrome coronariche croniche daranno un'importanza rilevante alla malattia del microcircolo tanto quanto la malattia epicardica ostruttiva e questo è l'ultimo algoritmo diagnostico proposto può sembrare complesso ma in questi pochi minuti vorrei convincervi che grazie ad un approccio schematico e standardizzato si può giungere ad una valutazione completa del microcircolo in 10-15 minuti primo step angiografia coronarica tesa ad escludere stenosi epicardiche non ostruttive e poi si passa ai coronary function testing quindi test funzionali coronarici che sono sostanzialmente due test all'acetilcolina e test all'adenosina come ha detto anche prima Alberto standardizzazione nei protocolli standardizzazione nelle metriche da andare a misurare per giungere alla nostra diagnosi come preparare il paziente per i coronary function test sarebbe auspicabile che il paziente stoppasse farmaci vasoattivi nelle 24 ore prima della procedura la sedazione se necessaria deve essere leggera perché il paziente deve essere vigile e collaborante il paziente va monitorato defibrillatore in sala l'accesso è quello preferito è il radiale ma comunque bisogna evitare di somministrare calcio antagonisti e nitrati quindi nel caso si può andare femorale si lavora su 6 french e l'iva è il vaso prescelto per le misurazioni partiamo con la descrizione del test all'acetilcolina prima domanda fare i primi test all'acetilcolina o all'adenosina non c'è grossa differenza dipende dal centro se volete poi discutiamo su quali possono essere i vantaggi di fare prima l'uno o prima l'altro di cosa abbiamo bisogno per fare il test all'acetilcolina angiografia monitoraggio elettrocardiografico a 12 derivazioni dell'acetilcolina che va preparata prima che il paziente sia sul tavolo la concentrazione utilizzata è di 20 mg al millilitro nitrati e direi collaborazione del paziente perché noi ad ogni step andiamo ad indagare l'insorgenza di angina i protocolli sono variabili a seconda del centro ma nell'ultima state of the art c'è stato un tentativo di schematizzare e semplificare questo protocollo per cui viene proposta l'iniezione intracoronarica di due dosi di acetilcolina una bassa dose a 20 microgrammi in 2-3 minuti e un'alta dose a 100 microgrammi in 30-60 secondi ad ogni step vanno acquisite due proiezioni angiografiche e ovviamente ogni qualvolta il paziente riferisca dolore o ci sia un'alterazione ischemica all'ECG abbiamo i nostri nitrati da somministrare in caso di spasmo o in ogni caso al termine della procedura e l'atropina va utilizzata nel caso di spasmo persistente o disordini del ritmo la diagnosi a cui possiamo giungere grazie al test all'acetilcolina sono di spasmo coronarico-epicardico o di spasmo microvascolare e Alberto prima ci ha detto quali sono i criteri diagnostici questo è un caso quindi baseline IVA spasmo sull'IVA a 100 microgrammi di acetilcolina paziente sintomatica per angina alterazioni schemiche all'ECG il tutto regredito con la somministrazione di nitrati il test all'acetilcolina è sicuro questa metanalisi ci ha detto che l'incidenza di complicanze maggiori dello 0.5% complicanze che possono essere ridotte se vengono seguiti dei tips and tricks qui ve li elenco e mi piacerebbe menzionarne almeno due il primo ricordarsi sempre dello spazio morto del catetere per cui quando terminiamo l'infusione di acetilcolina ricordiamoci che c'è comunque un altro po' di acetilcolina sempre all'interno del catetere quindi stare molto attenti quando poi si flascia o con salina o col contrasto per fare le acquisizioni angiografiche e la seconda cosa da ricordare è che l'acetilcolina ha una breve emivita quindi qualsiasi cosa succeda sospendiamo la infusione di acetilcolina e vediamo se le alterazioni regrediscono di per sé passiamo ora al clou della presentazione cioè i test all'adenosina che ci permettono di fare diagnosi di coronary microvascular dysfunction quindi CMD come possiamo valutare la CMD allora abbiamo la termodiluzione e la doppler flow velocity io mi concentro sulla termodiluzione perché la metodica che viene utilizzata attualmente e questa può essere fatta a boli o continua partiamo dalla termodiluzione a boli che è quella forse un po' più familiare di che cosa abbiamo bisogno pressure wire quindi guida di pressione e temperatura il coroventis l'agente iperemico noi comunemente utilizziamo la papaverina intracoronarica e qui potete vedere anche il tipo e il dosaggio di altri agenti iperemici e poi di una siringa l'uerlock da 3cc tips and tricks per la bolus termodilution è importante che il catetere guida sia ben ingaggiato nella coronaria sinistra perché questo può andare ad influenzare l'induzione dell'iperemia e il mean transit time a riposo soprattutto ed è consigliabile andare a collegare la siringa da 3cc in maniera coassiale al nostro manifold e al catetere il principio su cui si basa la bolus termodilution può essere riassunta in questo cartoon quindi noi abbiamo il vaso con all'interno la nostra guida di pressione e temperatura la pressure wire ha due sensori per la temperatura uno prossimale sullo shaft della guida e uno distale in corrispondenza della parte prossimale della porzione radiopaca della nostra guida quindi noi andiamo con il nostro boletto di soluzione fisiologica che sarà a temperatura ambiente quindi ad una temperatura inferiore a quella del sangue che si trova a 37 gradi quindi quando diciamo questo boletto giunge al sensore prossimale questo sente un calo della temperatura che vedete qui rappresentata da questa curva in verde il nostro bolo viaggia quindi si mescola il sangue all'interno della coronaria e viene avvertito dal sensore distale dipingendo appunto questa seconda curva di temperatura la distanza tra i due picchi delle curve è quello che si chiama mean transit time e come ha già fatto vedere Alberto è fondamentale per andare a valutare la coronary flow reserve so CFR l'IMR e ultimamente è stato introdotto anche l'MRAR e sulla destra potete vedere i cut off raccomandati per fare diagnosi di CMD questo è quello che succede direttamente nel CATLAB questo è il layout della Coroventis quindi andiamo a selezionare CFR IMR prima cosa da fare è fare lo zero della temperatura la curva della temperatura è questa qui che vedete in blu vado un po' avanti per questioni di tempo quindi ci prepariamo dopo aver fatto lo zero della temperatura ci prepariamo all'iniezione dei boli qui vedete il dottor De Bruyne che fa l'iniezione del primo bolo e vedete che appunto queste curve di temperatura hanno una deflessione quelle di cui vi parlavo prima quindi primo bolo va con il secondo bolo e poi successivamente con il terzo nel resting c'è variabilità nei valori di TMN e quindi quando questa variabilità è eccessiva viene segnalata dalla stessa console del Coroventis con questo box giallo cosa fare in questo caso andare a selezionare il valore che riteniamo essere l'outlier e andare a rifare il volo per appunto ottenere un valore che possa essere più congruo quindi poi induciamo l'iperemia e ripetiamo l'iniezione dei tre boli anche durante l'iperemia poi alla fine in automatico la console ci farà vedere i valori di IMR e di CFR questo è un esempio di diciamo un paziente francamente patologico per CMD e questo è un simpatico acronimo per ricordarsi gli step fondamentali per la bolus termodilution allora la termodiluzione a boli è semplice veloce ma è operatore dipendente invece la termodiluzione continua supera questi limiti è accurata ma soprattutto ci permette di quantificare il flusso coronarico assoluto e le resistenze microvascolari di cosa abbiamo bisogno per fare la termodiluzione continua abbiamo la nostra pressure wire ma abbiamo bisogno del microcatetere in questo caso il reflow per infusione della salina che per questa metodica è il nostro agente iperemico il reflow ha la particolarità di avere quattro fori laterali per l'infusione della salina più un marker radiopaco poi abbiamo bisogno di una pompa per regolare la velocità di infusione della salina e ci sono due velocità una a 10 ml minuto per il resting e un'altra a 20 ml minuto per la fase iperemica grazie a questa formula siamo in grado di calcolare il flusso coronarico assoluto ma vediamola praticamente con questo cartoon quindi abbiamo il nostro catetere guida all'interno della coronaria sinistra avanziamo la nostra guida di pressione e temperatura all'interno del nostro vaso e successivamente il microcatetere reflow per l'infusione della salina la corretta posizione del reflow si può verificare grazie a questo marker radiopaco che deve essere posta nei primi millimetri del vaso da misurare l'iva infondiamo la salina che quindi si mescola al sangue presente all'interno della nostra coronaria e per la fase resting ad una velocità di 10 ml minuto la temperatura che viene sentita dal sensore di temperatura di stale della guida in questo caso è di meno 0,5 gradi quindi poniamo queste misurazioni nella nostra equazione quindi 10 ml al minuto nella QI quindi velocità di infusione e meno 0,5 la temperatura sentita dal sensore a questo punto viene fatto un pullback della guida cioè noi andiamo a porre la parte radiopaca nella porzione prossimale del vaso perché vogliamo andare a misurare la temperatura della salina appena entra nella coronaria in questo caso è meno 3 gradi e questa sarà la TI e quindi siamo in grado di calcolare il nostro flusso coronarico assoluto da cui poi viene derivata le resistenze microvascolari in wood unit e qui potete vedere diciamo tutte le metriche che possiamo anche derivare dalla termodiluzione continua grazie per l'attenzione grazie mille grazie Marta sia per la bellissima presentazione che per le bellissime diapositive veramente esplicative e che sicuramente sono state apprezzate da tutti i partecipanti e niente quindi adesso introduciamo che un po' l'hai anche anticipato Emanuele Gallinoro sempre da Milano che farà un confronto diretto tra la termodiluzione continua a Boli che tu hai correttamente introdotto Emanuele ci sei? Sì ci sono riuscite a vedere la mia presentazione? Sì stanno caricando metti pure a tutto schermo prego si vede? Sì benissimo perfetto allora innanzitutto desidero ringraziare il professore Pizzi e il professore Campo per il gentile invito nel mio caso e agganciandomi a quanto detto precedentemente da Marta andremo a vedere un confronto principalmente in termini di differenze tra le due metodiche la termodiluzione in Boli e la termodiluzione continua è stato già visto cosa occorre per eseguire questo tipo di misurazione nel CATLAB soprattutto per quanto riguarda la termodiluzione in Boli sappiamo che abbiamo bisogno della pressure wire della Hubbot e del Coro Ventis che d'altro non è che la station con il relativo software è necessario per l'elaborazione dei dati e delle misurazioni effettuate come già detto da Marta abbiamo i due sensori a livello della pressure wire un termistore prossimale localizzato a livello dello shaft che non si vede normalmente all'angiografia perché è generalmente radiotrasparente ed un termistore distale che invece è localizzato all'aggiunzione radiopaca e radiotrasparente della guida come dice il termine stesso termodiluzione in Boli perché? perché viene iniettata manualmente un volo di soluzione salina di 3cc a temperatura ambiente adesso il tempo che impiega il volo di salina per andare da AB è chiaramente un versamento proporzionale al flusso ematico se abbiamo un altro flusso il tempo sarà ovviamente minore per cui il flusso di per sé può essere calcolato come il rapporto tra B dove B è il volume del vaso tra il punto A e il punto B e il T è per l'appunto il tempo di transito assumendo la B come costante anche in quanto la distanza tra e B è chiaramente una costante correlata alle proprietà della guida possiamo approssimare il flusso coronarico a 1 diviso il mean transit time cioè il tempo di transito del volo di salina calcolato come precedentemente detto citerei qui a stressare un primo concetto ed una prima differenza tra le due metodiche qui stiamo approssimando il flusso ad un tempo quindi il flusso in questo caso sarà uguale misurato in secondi alla meno 1 chiaramente questo tipo di misurazione come abbiamo visto può essere effettuata sia a riposo che in iperemia e quindi si può misurare la CFA la riserva di flusso coronarico che altro non è che il rapporto del flusso eperemico e flusso a riposo e con una semplice dimostrazione matematica diventerà uguale al mean transit time a riposo diviso il mean transit time in iperemia chiaramente da qui possiamo andare a calcolare l'IMR che è un indice delle resistenze del microcircolo anche qui importante concetto che ci tengo a sottolineare l'IMR è un indice non una quantificazione reale della resistenza e di fatto l'IMR un indice un numero adimensionale senza unità di misura volendo andare a misurare le resistenze del microcircolo in accordo con la legge di Ohm le resistenze saranno uguali a delta P diviso il flusso eperemico ma il delta P c'è il gradiente pressorio a monte a valle del microcircolo altro non è che la differenza tra il PD e il PV diviso il flusso in iperemia approssimando la PV a zero alla fine otteniamo che l'IMR si può calcolare come il PD per il TMN in corso di iperemia ancora una volta ricordo che l'IMR è un numero adimensionale in analogia eseguendo la stessa misurazione ma in condizioni di riposo possiamo andare a misurare il resistance reserve ratio che altro non è che l'equivalente per le resistenze della CFR questo è la tipica schermata generalmente l'output che restituisce il Coroventis come vedete qui abbiamo in secondi i valori del Min Transit Time a riposo e in iperemia calcolati sulla base della media delle tre misurazioni eseguite e da qui poi si ricavano chiaramente CFR e IMR veniamo alla termodiluizione continua che è stata invece introdotta più di recente la metodica richiede l'utilizzo di un microcratetero infusore dedicato se prima abbiamo parlato di termodiluizione embolica e quindi richiede un'iniezione manuale di un bolo di salina in questo caso l'infusione di soluzione fisiologica viene effettuata in maniera continua il microcratetero infusore ha un diametro di 2.52 french e monorail e presenta all'estremità distale questi quattro fori laterali di fatto viene montato come un normalissimo pallone monorail lungo la guida di pressione che abbiamo posizionato precedentemente nella parte distale della coronaria che vogliamo esaminare e la punta del reflo viene posizionata nei primi centimetri del vaso che vogliamo andare a studiare andando ad iniziare l'infusione chiaramente di soluzione salina a temperatura ambiente quello che viene registrato dal termistore distale della nostra guida è la T ovvero la mixing temperature vale a dire la temperatura del sangue misto alla soluzione fisiologica che sarà chiaramente più bassa rispetto alla normale temperatura corporea successivamente questa stessa guida che noi abbiamo posizionato nella parte distale della coronaria viene tirata indietro si esegue vale a dire un pullback portando il termistore in corrispondenza della punta del reflo per andare a misurare la cosiddetta Ti cioè la temperatura di infusione vale a dire la temperatura della soluzione fisiologica non appena questa fuoriesce dal microcatetere infusore la formula per calcolarla si basa sul principio della termodiluizione quindi conoscendo la Ti e la Ti e moltiplicando questo fattore per il QI laddove QI altro non è che la velocità di infusione della salina che viene scelta da noi e selezionata sulla pompa che utilizziamo per l'infusione di soluzione fisiologica andiamo a calcolare il flusso dal flusso è chiaramente possibile derivare il valore delle resistenze picardiche ed il valore delle resistenze del microcircolo come PD diviso Q quindi vale a dire PD diviso il flusso anche qui in accordo con la legge di Ohm la prima differenza che mi permette sottolineare anche in questo caso è che per la prima volta qui andiamo a misurare a quantificare il flusso coronarico in millilitri al minuto e a misurare le resistenze del microcircolo in unità di Wood questo è tipicamente una misurazione che viene eseguita con il Coromentis come potete vedere dal marker bianco qui cominciamo l'infusione di soluzione fisiologica si osserva una deflessione della temperatura misurata nella parte distale della coronaria dopodiché quando andiamo ad eseguire il pullback della guida andremo di conseguenza a misurare il T e la T conoscendo questi dati selezionando la velocità di infusione che in questo caso era 20 millilitri al minuto possiamo misurare il flusso in iperemia che come potete vedere in questo caso è 230 millilitri al minuto e le resistenze del microcircolo la termodiluizione continua è nata ed è stata validata inizialmente sia in vito e poi in vivo per la misurazione del flusso eperemico questo è il lavoro svolto dal gruppo di Amsterdam che ha dimostrato un'ottima correlazione tra la misurazione del flusso eperemico con la PET abbiamo successivamente eseguito la valutazione della stessa metodica per cercare di capire se fosse possibile misurare non solo il flusso eperemico ma anche il flusso a riposo con la termodiluizione continua la risposta è sì questo è un esempio di misurazione del flusso a riposo come potete vedere la schermata è esattamente identica a quella precedente la metodica è esattamente la stessa l'unica cosa che cambia è la velocità di infusione nella slide precedente era 20 in questa è 10 come potete vedere abbiamo un flusso a riposo che è di 67 ml al minuto con delle resistenze a riposo sensibilmente più alte di quelle eperemiche ora è chiaro che quello che abbiamo visto è che cambiando semplicemente la velocità di infusione della soluzione fisiologica a livello della coronaria e quindi cambiando il cui noi possiamo misurare il flusso a riposo utilizzando una velocità di infusione tra 8 e 10 ml al minuto oppure flusso in iperemia tra 15 e 20 ml al minuto di conseguenza se possiamo misurare il flusso a riposo e di flusso in iperemia possiamo anche calcolare la CFR e successivamente abbiamo poi validato con questa stessa metodica un nuovo indice specifico per il microcircolo e indipendente dalle stenosepicardiche che è l'Emma RAR per i dettagli vi rimando poi all'apposito lavoro veniamo ora ad una comparazione testa a testa tra le due metodiche ovviamente lo scopo di questo lavoro era quello di capire quale fosse la riproducibilità delle due metodiche della termodiluizione in boli e continua perché ogni volta che viene introdotta una nuova metodica nella pratica clinica è necessario capire se la metodica è accurata e soprattutto se è riproducibile in questo studio abbiamo arruolato 102 pazienti consecutivi in ciascuno di esse abbiamo eseguito la termodiluizione in boli e la termodiluizione continua e ciascuna misurazione è stata ripetuta a due volte in questo grafico a sinistra quello che possiamo vedere è la correlazione tra le misurazioni ripetute di si e fare ottenute con la termodiluizione continua e con la termodiluizione in boli come possiamo vedere abbiamo un coefficiente di correlazione per la termodiluizione continua di circa 0,78 mentre il coefficiente di correlazione per la termodiluizione in boli è di 0,50 come si può vedere da Bland-Altman chiaramente lo spread dei valori ricavati dalla termodiluizione in boli è chiaramente più ampio rispetto a quello ottenuto con la termodiluizione continua se andiamo invece a paragonare l'MRAR con l'IMR il comportamento di questi due indici è fondamentalmente simile con un coefficiente di correlazione tra i due che è di 0,81 per l'MR e di 0,80 per l'IMR rispettivamente quindi qui non abbiamo trovato grosse differenze questa è una tabella del lavoro a cui eventualmente vi rimando veniamo invece al concetto di variabilità intraosservatore che cos'è la variabilità intraosservatore è una misura di quanto due misurazioni eseguite sullo stesso paziente dallo stesso operatore si discostano e si calcola fondamentalmente come la differenza in termini di valori assoluti tra le due misurazioni diviso la media delle due misurazioni moltiplicato per 100 in questo bar plot possiamo andare a vedere in rosso le misurazioni ottenute con la termodiluizione in boli ed in blu le misurazioni ottenute con la termodiluizione continua vediamo che la variabilità intraosservatore della CFR dell'IMR dell'ERARAR è significativamente maggiore per la termodiluizione in boli banalmente se andiamo a vedere la CFR che cosa vediamo che se noi ripetiamo la stessa misurazione due volte sullo stesso paziente con la termodiluizione in boli le due misurazioni possono discostarsi fino anche del 30% scusate per cui venendo alle slide conclusive qual è il messaggio da portare a casa sicuramente la termodiluizione in boli è una metodica veloce ha il vantaggio di essere user friendly estremamente facile e per questo molto diffusa non presenta costi aggiuntivi al di là chiaramente di quello della pressure wire e del coroventis a scapito però di una minore appunatezza e riproducibilità la termodiluizione continua ha dimostrato invece di essere sicuramente più accurata perché maggiormente validata anche contro la PET di essere riproducibile operatore indipendente perché chiaramente la soluzione fisiologica viene infusa in coronaria da una pompa mentre invece con la termodiluizione in boli l'iniezione viene eseguita manualmente a scapito chiaramente di costi maggiori perché il refro in sé ha un costo che può oscillare anche tra 600 e 900 euro oltre ad eventuali costi aggiuntivi per la pompa di infusione che sono notevoli qualora il CAT labbanese ha sprovvisto allora a questo punto la domanda sorgerebbe spontanea ma bisogna utilizzare la termodiluizione in boli o la termodiluizione continua in realtà preferisco rispondere a questa domanda con una frase di Theodore Roosevelt do what you can with all you have wherever you are che vuol dire non conta se utilizziamo l'una o l'altra tecnica l'obiettivo e lo scopo di questo webinar vuole essere quello di sensibilizzare di incentivare all'utilizzo della fisiologia coronarica e allo studio del microcircolo quindi semplicemente applicate la fisiologia coronarica fatelo fatelo con tutti i mezzi a disposizione sicuramente il paziente ringrazierà grazie per l'attenzione grazie grazie a te Emanuele una volta fatta diagnosi di malattia coronarica microvascolare vediamo il trattamento farmacologico guidato proprio dalle indagini coronariche invasive ci parlerà il dottor Leone di Roma dell'università cattolica prego Antonello ti sei buongiorno a tutti grazie Carmine grazie Gianluca è molto è già stato detto quindi cercherò di andare avanti se non riesco a condivire perché è ancora condiviso lo schermo Emanuele togli la condivisione del tuo schermo ok allora condivido vedete immagino allora la terapia farmacologica è importante perché ci spiega perché fare tutte le valutazioni che sono di cui si è appena detto perché quando noi questi sono tre pazienti della nostra realtà clinica tre pazienti che si presentano con dolore toracico classe canadiana 3 di ischemia positivo funzione contrattiva normale assenza di valvulopatina uno è un maschio di 74 anni un altro maschio di 66 anni un altro è un adulto è un altro una donna di 70 anni e allora si potrebbe essere tentati di fare quello che fanno i molti cioè tirare giù il paziente dal tavolo dirgli che tutto sommato la situazione è buona e che non c'è molto da fare e tutt'al più dargli una terapia diversa un pochino diversa da quella che si fa e generalmente questo è dare le calci antagonisti questo approccio empirico è stato testato è stato testato nell'edit CMD e i risultati sono stati scadenti se noi in cieco diamo a pazienti con assenza di malattia coronaria ricostruttiva le calci antagonisti anche a dosaggio elevato i risultati non ci premiano e non c'è un significativo miglioramento dei sintomi se poi li andiamo a sottostudiare effettivamente si osserva che in coloro che hanno alterazioni vasomotorie reali di tipo funzionale quindi spasmo epicardico in particolare effettivamente c'è un certo beneficio e quindi la risposta come sempre in questi casi è che una una misura non va bene per tutti e è necessario perciò un approccio stratificato che è il nocciolo di quello di cui parliamo oggi l'approccio stratificato ci è stato un po' insegnato dal gruppo di Glasgow di Colin Berry il quale ha mostrato nello studio Cormaica che se io affrontavo dopo la coronarografia diagnostica una valutazione funzionale e sulla base di quella davo una terapia stratificata per l'angina vasospastica oppure per la disfunzione microvascolare oppure nessuna terapia quando i risultati erano negativi e quando i test erano negativi la prognosi o meglio la qualità di vita era migliore e in effetti questo è quello che si osservava che i pazienti che appunto venivano trattati con la terapia stratificata avevano un miglioramento degli indici funzionali della qualità di vita un miglioramento dell'angina e questo è quello che ha portato alla modifica delle linee guida che ha fatto vedere che ha fatto vedere il dottor Polimeni ora per calare questa realtà nella per calare queste linee guida nella realtà italiana noi abbiamo costituito un gruppo con il professor Campo e il professor Porto che è detto appunto Full Physiology cercando di tradurre nella semplicità queste cose che sono sempre state viste come un linguaggio per iniziati per logge accademiche se mi si passa il termine e quindi abbiamo dato la abbiamo formulato una sorta di algoritmo per cui potete del quale potete trovare tutti i dettagli in questo lavoro a cui vi rimando che è il nostro documento di consenso e nel quale abbiamo sostanzialmente voluto fornire un un approccio sistematico per valutare i pazienti con l'antia coronarica usando una tecnologia di guida di pressione termodiluizione e questo ci consente quindi una sorta di medicina di precisione come piace dire oggi questo l'abbiamo già visto quello che interessa ora per il webinar di cui stiamo facendo parte è quello che riguarda lo studio il secondo il terzo step che riguarda lo studio del microcircolo e dei test vasomotori se dove vanno a finire i risultati di questi test vasomotori devono andare a finire una modifica della terapia farmacologica ahimè a dispetto della Cormaica che ci ha detto che una terapia stratificata è efficace i dati che in realtà sostengono i singoli farmaci che noi andiamo a suggerire sono abbastanza deboli questa è una bellissima review del gruppo di Gianluca che riassume sostanzialmente quasi tutta la letteratura disponibile in materia e da questa letteratura è facilmente evidenziabile che i dati sono piuttosto scarsi noi consigliamo sempre in particolare nella malattia strutturale una terapia con acidi inbitori ma se poi andiamo a vedere in cosa si sostanzia l'evidenza troviamo un singolo studio clinico positivo che mostra un beneficio in termini di blando incremento della riserva coronarica se andiamo a valutare i beta bloccanti e noi generalmente consigliamo il nebbivoloro in realtà osserviamo che l'unico studio abbastanza serio che è stato fatto è stato fatto nella mia università la cattolica nel lontano 1999 da professor Lanza che era dottore nel quale si documentava che la terapia beta bloccante nei pazienti che allora si definivano ancora sindrome X migliorava la capacità di esercizio e migliorava i sintomi decisamente meglio dei nitrati dell'amlodipina contrariamente al common belief c'è in clinicaltrials.gov riportato uno studio che doveva essere già stato concluso prima del covid che è il Nirvana che però ad oggi non è ancora stato pubblicato per quanto riguarda invece i farmaci antischemici Nicorandil Ranolazina e Vabradina i dati anche qui sono abbastanza scarsi e ancora una volta l'evidenza più significativa proviene dal gruppo del professor Lanza riguardo a Ranolazina e Vabradina e laddove si dimostra che sono producono un certo effetto di miglioramento della qualità di vita forse maggiormente evidente per la Ranolazina stessa e in passato soprattutto dal gruppo del mio mentore professor Crea era stato ipotizzata la possibilità di utilizzare le derivate delle lexantine soprattutto perché quelle derivate delle lexantine avrebbero la capacità di migliorare la perfusione e soprattutto la disomogeneità di perfusione che è presente nei pazienti con angina microvascolare e quindi servirebbe a rendere omogeneo questo effetto e qualcosa di più diciamo avanzato potrebbe venire dalla via dell'ossido nitrico e degli inibitori della GMP ciclasi ancora una volta prevalentemente però nei pazienti che hanno una depressione della riserva coronarica laddove invece quelli in cui non c'è riduzione della riserva coronarica l'effetto è nullo vedete la numerosità che ci dice sostanzialmente della scarsa evidenza e ugualmente possiamo dire per gli inibitori del recettore dell'endotelina in pratica bisogna considerare a che gruppo appartiene il paziente per poterlo poi trattare adeguatamente secondo la classificazione appunto del nostro gruppo full fisiologi i pazienti che hanno la la disfunzione microvascolare funzionale dovrebbero essere trattati cioè coloro che hanno contemporaneamente riduzione della riserva coronarica e incremento scusate qui scusate riduzione della invece della delle riserve microvascolari quindi la disfunzione è solo funzionale e probabilmente a causa di un incremento del flusso basale dovrebbero essere trattati con beta bloccanti e ranolazina in associazione agli acidi inibitori per i pazienti invece che hanno una disfunzione tipo strutturale sia che sia compensata che clinicamente evidente la terapia è ancora una volta beta bloccanti e ranolazina ma sappiamo già che non abbiamo a disposizione i farmaci che riescano ancora oggi ad agire sulle resistenze stesse alterate in maniera strutturale laddove invece nei pazienti come nel caso che è stato mostrato all'inizio i pazienti con spasmo microvascolari dovrebbero beneficiarsi di calcio antagonista e nitrati uso il condizionale perché la definizione che viene comunemente utilizzata dal gruppo covalis cioè sintomi modifiche cg ed assenza di spasmo epigardico è una definizione in negativo frutto di una consensus non è effettivamente provato che effettivamente sia indotto uno spasmo epigardico in corso di somministrazione di acido il colino quindi ritornando ai nostri tre casi nella fattispecie noi in questo caso abbiamo trovato una riserva coronarica ridotta e un incremento delle resistenze microvascolari con acidilcolina negativa e questo quindi una diagnosi di disfunzione microvascolare tipo strutturale che è stata trattata con nebbivolodo ramipril e rosovastatina e aspirina nel secondo caso abbiamo una disfunzione di tipo funzionale abbiamo una riserva coronarica ridotta ma con resistenze assolutamente normali e testa dell'acidilcolina negativa probabilmente con una malattia un po' diffusa delle coronarie quindi una impaired vasodilation come meccanismo ancora una volta il nebbivolodo la ranolazina e cercando di ridurre il flusso basale più possibile e il terzo caso è quello appunto di uno dei rari veri spasmi microvascolari vedete qui il flusso completamente alterato e che è stato trattato con successo con con disfunzione con calciantagonisti ad alto saggio faccio notare in questo caso che di base la paziente aveva già una disfunzione di post strutturale questo ci fa ci deve far riflettere sul fatto che le due cose non vanno non si vanno mai ad escludere che quindi vanno la successione di di test va fatta tutta per quanto riguarda la realtà italiana abbiamo attualmente due studi in corso uno che è l'inoc IT registry in cui stiamo collaborando con Sara Raffaele e con la Federico secondo e poi c'è lo studio Miva dei professori Indolfi ed Esposito che sta valutando appunto i diversi fenotipi questi ci daranno qualche informazione di più sulla realtà italiana e credo che quindi però rimanga per concludere un cosiddetto un met need per trattare i pazienti con disfunzione microvascolare strutturale per i quali ancora non abbiamo una risposta terapeutica chiarissima grazie grazie mille Antonello veramente una bellissima presentazione che chiude perfettamente abbiamo tempo penso non più di cinque minuti e ci tenevo io a fare tre piccoli commenti più alcune domande che sono venute dall'audience allora il mio commento riguarda Marta Marta ci ha fatto vedere come fare il test alla cittilcolina lei ha in un qualche modo suggerito di fare due step e Marta se puoi fare un breve commento che in realtà una cosa importante che si può fare è quella di fare altrimenti i tre step sequenziali 20 50 100 che c'è anche la possibilità se uno non vuole fare il check tutte le volte visto che il mezzo di contrasto può essere una variabile di confondimento di usare il filo guida per valutare lo spasmo epicardico in particolar modo giusto proprio un commento flash sì sì assolutamente e infatti diciamo il protocollo dell'acetilcolina è quello meno standardizzato quindi dipende anche dal centro l'importante essere univoci nella definizione perlomeno dello spasmo epicardico e quello microvascolare quindi sono assolutamente d'accordo perfetto grazie poi approfitterei per fare una domanda o a Emanuele o Alberto chi di due più veloce rispondere che viene dal pubblico che se hanno esperienze se è tranquillo fare anche l'assessment della full fisiology anche nei pazienti con minoca cioè quelli che hanno un quadro acuto troponina positiva si fa la coronarografia non si vede una malattia coronaria costruttiva Emanuele Alberto chi fa un flash di commento posso farlo io sì è assolutamente sicuro al massimo si può prestare eventualmente un po' più di attenzione in questo caso in un setting di pazienti acuti eventualmente nella mia esperienza solo all'utilizzo della popoverina laddove c'è magari già un quadro di schemia con una certa magari accompagnata di un'instabilità elettrica non so paziente che fa tante crissasistori ecco in quel caso la popoverina potrebbe più facilmente triggerare o indurre delle aritmie che generalmente si risolvono da sole si risolvono scioccando il paziente ma ecco nel setting acuto potrebbero giusto essere un po' più probabile quindi magari in quel caso preferire la denosina la popoverina per l'assessment perfetto guarda Emanuele c'è ancora altra domanda velocissima se il cutoff di normalità per l'mrr sulla tua esperienza allora di fatto ancora non c'è un reale cutoff basato soprattutto sulla base degli autogram clinici c'è un lavoro fatto basato sul registro olandese e basato soltanto su dati anatomici e funzionali in cui si dice che un valore di sopra di 2.7 virtualmente esclude la malattia del microcircolo al di sotto di 2.2 verosimilmente c'è malattia del microcircolo resta un'ampia zona grigia e chiaramente resta da validarlo rispetto ad un outcome clinico Ottimo Antonello sempre dall'audience c'è una domanda sul nebivololo noi stressiamo sempre questo potenziale effetto positivo del nebivololo se puoi un po' rappresentare il motivo fisiopatologico e perché magari il nebivololo è da preferire fermo restando che non c'è purtroppo una grossa evidenza noi consideriamo il nebivololo fondamentalmente traslando gli studi che sono stati fatti nella malattia coronarica epicardica nella quale è documentato che il nebivololo ha la proprietà di essere un donatore di ossido nitrico e quindi all'effetto di riduzione del consumo di ossigeno di tutti i beta bloccanti si aggiunge un effetto potenzialmente vasodilatatore coronarico che dovrebbe essere doverlo preferire rispetto agli altri quindi in questo senso è la scelta è chiaro che però ripeto manca una chiara evidenza a favore rispetto agli altri grazie Antonello Alberto per te è rimasta la domanda più difficile in cui eventualmente chi se la sente può venirti in soccorso che è quella se possiamo vedere uno spazio per la cura del microvascolare delle glifozine o del GP1 inhibitor che adesso ormai stanno diventando una sorta di santo gralle quindi se vedi uno spazio anche in questo contesto se ci sono studi in corso o se magari pensiamo di farlo sì sì questa è una domanda che non ha una risposta naturalmente però la mia idea è che alla fine sia le glifozine che i inhibitori GLP1 si è visto ormai che hanno un effetto benefico in multiple contesti clinici e secondo me potrebbero anche averlo nella malattia nel microcircolo è naturale che vanno fatti i condotti degli studi soprattutto con outcome clinici che poi possano appunto giustificare il loro impiego però secondo me potrebbero avere un ruolo anche questi nuovi farmaci ottimo grazie Alberto Carmine se tu non hai il piacere di fare un commento o altre domande puoi amare la più chiusura sì concludiamo perché sono 12 minuti e ci avevano dato solo 10 minuti e non vogliamo rubare tempo io volevo ringraziare tutti volevo ringraziare te Gianluca volevo ringraziare i relatori veramente molte belle sono state le relazioni vedo che il professor Pedrinelli ci ha seguito e ha scritto anche lui i suoi ringraziamenti io volevo ringraziare il professor Pedrinelli e la SIC per l'opportunità che dà soprattutto purtroppo devo dire a voi giovani io mi devo togliere dai giovani perché ho 50 anni e passa però sono veramente contento grazie grazie a tutti e al prossimo webinar del working group dello gruppo di studio della SIC non so se il professor Pedrinelli vuole dire qualcosa o è andato dall'altro webinar non c'è mi sa che ci ha abbandonato non c'è grazie grazie veramente anche ai partecipanti che sono stati intorno ai 100 grazie mille buon lavoro a tutti a rivederci grazie grazie arrivederci grazie